C'è un'iniziativa oggi qui in presenza di molte istituzioni, l'università, il volontario e soprattutto il volontariato, ma soprattutto quello che riguarda gli aspetti regionali. In un contesto molto importante che è quello dell'accoglienza per i minori, per gli immigrati. La Puglia ha una grande tradizione di accoglienza in questo senso, essendo regione di frontiera avamposta all'interno del Mediterraneo. E quindi c'è l'esperienza che va assolutamente, non solo assecondata, ma va ampliata in un contesto che riguarda anche la formazione, ma soprattutto non solo accoglienza, ma anche assistenza sociosanitaria e sanitaria in particolare. Quindi si rilancia assolutamente questo indirizzo, si rilancia assolutamente questi aspetti che per noi sono una carta d'identità. Non dimentichiamo che sulla situazione dell'accoglienza negli anni passati la Regione Puglia è stata insegnita della medaglia da parte della Presidenza della Repubblica al merito del valore civile. E quindi questa c'è la linea, a maggior ragione per i minori non accompagnati o nel contesto di tutte le attività sanitarie e sociosanitarie che ci vedono in prima linea. Non c'è dubbio che avere riconoscimenti da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma non solo, ma anche c'è il contesto europeo a cui non sfugge la grande attività in questo senso da parte della Regione, c'è che non riguarda, c'è solo l'aspetto estremamente sanitario, ma riguarda anche quello della formazione, c'è quello della cooperazione, quello di mettere insieme tutte le forze e tutti gli attori. In questo senso io penso che il riconoscimento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità c'è sia un ulteriore cetazello che sancisce quello che effettivamente è l'azione che la nostra Regione svolge in questo senso, a tutela c'è delle persone che soffrono, a tutela c'è della vita delle persone.